Se noi cadiamo in un lockdown mentale, economico, finanziario, siamo fregati. Quindi noi cerchiamo, ma viene rovinata la nostra piccola industria, tutto quello che è l'esercizio della ristorazione, l'impresa stessa. E' un invito alla prudenza quello che arriva dalla Marchesa Etta Carignani, che guarda sì con preoccupazione le ripercussioni che una nuova chiusura potrebbe avere sul comparto industriale ed economico, ma che nel contempo segue con interesse e favore le mosse in tal senso del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dobbiamo prima di tutto stare molto attenti, molto cauti, dare una calmata a molti e poi seguire, diciamo la verità, gli insegnamenti del Presidente della Regione perché è stato sempre molto equilibrato. Non è mai stato, non ha mai presto l'ascia di guerra per andare a combattere contro chi? Contro i fantasmi? No. Per cercare di salvare la Regione e tutti insieme salvare questo Paese. Etta Carignani però ha un altro cruccio in questi mesi. L'emergenza sanitaria, teme, ha distolto la nostra attenzione dalla politica vera, provane sia l'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana nei confronti delle recenti consultazioni elettorali, passate per certi aspetti quasi inosservate. Abbiamo votato in fondo per il referendum, abbiamo votato nelle varie Regioni e poi ne abbiamo commentato, ne abbiamo discusso. Che conseguenze ne abbiamo tratto? Anche culturalmente, noi singolarmente, perché la nostra è soprattutto un'educazione politica, perché siamo politici ma apartitici. L'ANDE, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, dalla sua fondazione negli anni 40 del secolo scorso, elemento di collegamento fra il mondo della politica e quello di chi vota, ha in programma, dunque, giovedì prossimo alle 17 in seminario, un incontro curato dalla professoressa Cristina Benussi, qui annunciata la partecipazione del professor Sergio Bartoli e del professor Paolo Giangaspero, incentrato sulla Costituzione italiana in seguito al referendum e sulla legge elettorale, partendo da una constatazione semplice e lineare. Bisogna anche cercare di ritornare con cautela, nel senso di educazione, a rieducare anche noi stessi a considerare gli eventi, gli avvenimenti, i momenti importanti politici del nostro Paese. Ed è questo che vogliamo fare. Grazie a tutti.